Matteo Marcon, vittoria nel derby che vi lancia veramente vicino alla zona promozione. Eh sì, ci hanno quasi sempre da inizio campionato dati per, cioè, prima di tre partite magari dicevano che erano in lotta per la seconda, però dopo hanno iniziato a dire che non eravamo più all'altezza, adesso invece stiamo a dimostrarlo che ci siamo. Oggi abbiamo dimostrato perché poteva finire anche di più, secondo me. Sì, in effetti, non c'è stata molta storia, diciamo che i derby sono molto più tirati, stasera va resi a pochino, vuoi molto di più. Sì, non è, diciamo, non è stato come quello dell'andata, ma l'andata, quella partita abbiamo avuto certi problemi, tra il caldo, sfortuna, oggi è andata bene, dai. Poi oggi è un'altra storia. E adesso siete a due punti, sì, dalla zona promozione, ma avete veramente un calendario terribile, nel senso che dovete giocare con le prime, però potrebbe essere anche uno stimolo. Eh, infatti adesso è il momento di dimostrare che è più forte. Secondo me, noi possiamo andare su, perché sinceramente fino adesso c'è solo una squadra che mi ha stupito veramente tanto, è la Viola. Il resto... Ve la giocare. Sì, sono un bravo, ma ce la giochiamo, anche con la Viola. E cos'è questo cambio d'allenatore? Sembra quasi un tocco magico. Non ne ho idea di cosa sia successo, ci avrà dato stimoli, un po' magari rabbia che avevamo dentro per quello che è successo con il mister precedente, ci ha fatto un po' esplodere. Infatti c'è molto più grinta in campo, è tutto. Cosa ha portato di nuovo rispetto al precedente, il nuovo allenatore? Ma abbiamo cambiato leggermente il metodo di allenamento, ma boh il modulo, siamo passati a difendere in un altro modo e boh ci troviamo evidentemente molto bene.